Come ti senti dopo la tua vittoria qui a Podebradi? Io sono veramente felice, sono molto felice per questa competizione, per me è molto importante. Quindi tu hai preso la tua flag e non hai bisogno per la tua besta personal, perché? Hai realizzato che hai probabilmente perso l'opportunità di fare il tuo record personale perché hai voluto prendere la bandiera, l'avevi realizzato o è stato un istinto? Non ci ho pensato, mi è cascata la bandiera e per me la cosa più importante era la bandiera dell'Italia, quindi il tempo verrà nei prossimi avvenimenti importanti, quindi viva l'Italia! She really didn't think it, she saw the flag and she thought that taking the flag was the most important thing because she was competing for Italy, not really for herself here. Congratulations Antonella, so you have some special mascot with you here in your hair, but now you have it in your hand, can you show us? And what is it? Ok, che cos'è questo? Il mio portafortuna è dal 2010, che ho messo a Chihuahua, lo realizza mia madre e diciamo che alle gare più importanti come mondiali europei per la diversità che ci sono i colori della città importante. Ok, and it is a kind of things that brings luckiness and it is made by her mother and she started wearing it in 2010 at the race at Chihuahua and from since then she always wears it. And about the colors, at the World Championship and the European Championships the colors are the colors of the Italian flag and in the other competition, the colors are the colors of the Austin countries. Ok, perfect, thank you very much.